Questa è la spugna, perfetto, colorata rossa, ovviamente potete farla a tutti i colori che volete. Quindi come andiamo a decorare una torta di questo tipo? Facciamo così, facciamo frosting che ho messo in un sac à poche, livelliamo, poi spugna decorativa tutto intorno a ciuffettini, un lampone alternato alla spugna, un po' di foglia d'oro per andare a decorare, la torta è finita. Il sigillo, il mio timbro e la torta è finita. Quindi spaziate, siate creatori delle vostre ricette. Io vi saluto, Red Velvet a mo' di croissant è terminata e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!